Volevo dire al mondo, volevo dire al mondo a tutti gli amici in ascolta che qua stanno passando tutto quanto una grossa crisi Quella è andata al corso di chitarra e tornata alle 4 del mattino con il rossetto tutto spostato sulla faccia Ma che la chitarra suoni con la bocca? Ha fatto il tiramisù con le vongole, la bambina ha vomitato Ha vomitato Che dice, mundus erat mundus, mundus cumunda creares La domanda è mal posta Forse te volevi chiedere, maestro, che ore sono?